Cari amici, benvenuti in questo video aggiornamento di Yandere Simulator, perché sì, il signor Yandere Dev invece di passare la sua notte e la sua giornata a lavorare su Raibaru e Usana, sta facendo tutt'altro, ovvero sta fixando vari bug che sono in giro per il gioco, bug che magari molti di noi non hanno ancora visto, però ha fatto anche delle modifiche interessanti che adesso vi andrò a illustrare. Adesso, per motivi legati al gameplay, potrete versare tutta la benzina che vorrete dalla vostra simpatica tannica, perché Yandere Dev ha deciso che non ha senso che questa tannica contenga la benzina sufficiente per uccidere una sola persona, ma che possiamo ammazzarne anche più di una. Anche perché nella mission mode talvolta uno doveva uccidere più persone con la stessa tecnica del dare fuoco e... ecco, apparentemente uno dei bug di questa versione è il fatto che le persone camminano in un modo un po' strano, poi magari si sbloccano, ma intanto... Adesso, anche se ho già utilizzato una volta la tannica di benzina, posso andare di nuovo alla tannica, prenderla e scoprire che c'è ancora benzina per i meloschi scopi. Notate però purtroppo che da quando ho chiesto alla leader del club di giardinaggio di seguirmi, anche se poi gli ho detto che non importava più che mi seguisse, quando mi teletrasporto continuo a seguirmi. E che fastidio, accidenti! Visto? Ho potuto mettere un'altra trappola, che vuol dire che potete dar fuoco a più persone anche durante la stessa giornata, senza per forza aspettare il giorno seguente, quando la benzina si è magicamente ricaricata. Avete presente i problemi economici di Cocona? Che per cercare di racimolare un po' di soldi è costretta a dare appuntamento a uomini molto molto più grandi di lei, come si può vedere la sera quando si va nella città? Ecco, se voi la spingete di sotto dal terrazzo, oppure semplicemente diventate suoi amici e fixate il suo problema, rapendo musume eccetera eccetera, vi accorgerete che la sera non ci sarà più nessuna Cocona agli appuntamenti con uomini più grandi. E infatti qui c'è la panchina in cui Cocona sedeva con il suo accompagnatore, e ahimè nessuna Cocona sede più in questa panchina con il suo accompagnatore perché è morta. Ah, una piccola modifica alle Rainbow Girls che adesso passeggiano qui tranquillamente la sera. Adesso sorridono finalmente, tutte tranne quella con i capelli rossi, lei non sorride, lei sorride, lei sorride, anche lei sorride, Okaruto tu non senti, sorridono tutte praticamente eccetto l'unica ragazza laggiù che invece è rimasta un po' musona, scelta di Yandere Dive ovviamente. Una delle modifiche più grandi di questo update è stata fatta i manga, come potete notare adesso tutti i manga che normalmente si trovavano in giro per la scuola adesso sono venduti in questo negozio e addirittura alcuni richiedono di essere maggiorenni, il che significa che la nostra Yano per poterseli permettere dovrà chiedere a Infochan una carta di identità fasulla, altrimenti niente da fare, infatti se adesso provo a comprare uno dei fumetti, pur essendo minorenne, la ragazza mi dirà, ma stai cercando di farmi licenziare? Questa roba è per adulti, mi fai vedere la carta di identità per piacere? Eh, e noi non abbiamo nessuna carta di identità da farle vedere, quindi a questo punto possiamo soltanto andarcene. Stessa cosa accade anche se cercate di comprare ma non avete soldi sufficienti. Gli unici fumetti che ancora potrete trovare in giro per la scuola sono quelli di Death Note, ovvero di Life Note, che potete trovare nel club di fotografia. Sono letteralmente gli unici rimasti, gli altri dovete necessariamente comprarveli. Ah ah ah, ve li ho fregati tutti, ve li ho fregati tutti! In giro per la scuola ci sono due cestini come questo, che fino a poco fa potevano essere utilizzati per body bloccare gli studenti in giro. Adesso invece, come potete notare, gli studenti ci passano attraverso, quindi non body bloccate più nessuno purtroppo. Vediamo cosa succede se invece cerco di piazzarlo davanti a qualcuno, tipo se lo poso qui. Niente, continua a passarci attraverso come se niente fosse, quindi non avete più la funzionalità del cestino come oggetto per bloccare le persone. Ecco, addirittura sembra che sia fatto dare, ah no, lo evitano, oppure ci passano attraverso. Fantastico, il cestino è diventato inutile. YandereDev ha fatto anche un piccolo aggiornamento grafico alla texture del lead che si trovano nel club di cucina. Apparentemente la grafica era un po' obsoleta e ha deciso di revisionarla. Avete presente le conversazioni notturne che la nostra Yano può fare su Discord, ovvero Yankord, la sera? Per un bug non potevano più essere fatte se le avevate già sentite in una run precedente, anche se poi avevate ricominciato il gioco. Adesso invece questa cosa non succede più e potete comunque rivivere l'esperienza tutte le volte che ricominciate la partita da capo. Alcune modifiche sono state subite anche dalla mission mode e come vi ho detto all'inizio di questo video, adesso la benzina potrà essere utilizzata più volte al giorno, soprattutto per questa funzione, la multi-mission, che vi permette di scegliere vari obiettivi casuali e magari anche di doverne dar fuoco a più di uno. Per esempio in questo caso, settando una missione random, ci è avvenuto di dar fuoco a Mecha e di dar fuoco anche a Tsubaki, cosa che non sarebbe possibile se non si potesse utilizzare la benzina più e più volte durante la stessa partita. Un'altra delle modifiche che sono state fatte, che però in realtà è un backfix, riguarda la nostra Nemesis Chan, che apparentemente era diventata incapace di vederci anche se eravamo proprio in faccia a lei. Una cosa che è stata eliminata dalla mission mode riguarda il fatto che adesso non si possono più evocare i demoni del fuoco. Facciamo finta che ancora si possa, andiamo nel club dell'occulto, prendiamo il coltello rituale e lo portiamo nel club di scienze in modo da poter incendiare la fiamma e riscaldarla. Adesso la fiamma è diventata calda, se la rinfiliamo nel teschio però non succede niente, non sentiamo più la voce del demone che ci dice Ah, vuoi un po' di miei poteri? D'accordo, tienili pure, vediamo cosa sai fare. Adesso semplicemente il coltello è lì, è scaldato, ma è soltanto scaldato, non succede niente. Ehm, abbiamo un problema qui, abbiamo un problema che si chiama, mi ha beccato, mi ha beccato una signorina perché sono rimasta fermata un po' tempo nello stesso posto. Eh, scusi lei, e si potrebbe anche togliere un attimo di mezzo, ne mesisse, mi scusi eh, mi scusi ma io devo tenere d'occhio le mie vittime, non posso perdere tempo con lei. Eccoti qua, eccoti qua, scusi eh, mi scusi. Non volevo assolutamente ucciderla, forse volevo, non è un problema mio. Comunque ragazzi, questi erano gli aggiornamenti più importanti che secondo me Yandere Dev ha aggiunto negli ultimi giorni, anche se immagino che sarà ancora con la mente in fermento e che giungerà presto nuove cose. Lo so, lo so che tutti quanti stiamo aspettando Zaner Raibaru, ma mi sa che avremo ancora un po' da aspettare. Grazie a tutti, alla prossima, con Kiriandere che uccide la gente, Eterna Love, ciao! E mi raccomando, se avete qualche pensiero interessante su questo aggiornamento, scrivetemelo nei commenti, ciao ciao! Ciao!